La cosa però interessante che si aggiunge oltre alla nuova interfaccia è questa. Torniamo sulle properties e andiamo a cliccare sul pulsante mesh, quindi quello che attiene all'oggetto 3D. Scorriamo in fondo al pannello properties e notiamo una cosa, è possibile cambiare il colore del testo accedendo direttamente al selettore colore, molto interessante, ma ancora più interessante è accedere al pannello relativo al carattere. E qui possiamo cambiare ad esempio il font size e ovviamente l'effetto 3D e tutte le deformazioni vengono applicate alla nuova dimensione font, adesso ho esagerato, forse troppo piccola, facciamo 350 punti, scusate. Ecco qua, quindi non solo modifico tutte le caratteristiche della font, compresa la famiglia della font, quindi posso cambiare in maniera molto molto semplice il carattere. Vedete come è possibile valutare, quindi questo è uno strumento prima di tutto creativo, perché ci permette di valutare in tempo reale tutte le opzioni grafiche. Diciamo che voglio tornare sulla font originale perché ritengo sia molto bella. Usiamo questa font, molto bello, molto interessante, ma se volessi cambiare il contenuto del testo 3D, beh, anche in questo caso abbiamo delle importanti novità. Vi ricordate che nella precedente versione, quindi nella versione di Photoshop CS5 o 5.1, quando creavo un oggetto 3D a partire da un testo, il testo veniva inevitabilmente rasterizzato. Quindi perdevo la possibilità di editarlo. Qui le cose sono cambiate. Clicco su Edit Source e a questo punto apro una sorta di oggetto avanzato che contiene, come vedete, il mio livello vettoriale di testo, scusate, il mio livello di testo, e quindi andare a cambiare il contenuto. Aumentiamo ancora la dimensione. Chiudiamo il file e salviamo. Quindi non solo cambio il colore, non solo cambio lo stile e in generale la formattazione, ma vado a cambiare anche il contenuto, tutto in maniera assolutamente trasparente e dinamica. Bene, andiamo avanti, perché voglio iniziare a comporre la mia immagine e vado quindi a trasformare il mio livello bidimensionale, quindi il mio livello piatto, in un livello 3D. Ancora una volta lo seleziono, vado sul pannello 3D e come vedete anche qui ho una razionalizzazione del contenuto, quindi posso subito scegliere di utilizzare il livello selezionato o un traccetto di ritaglio, quindi, scusatemi, un traccetto di lavoro, o una selezione, o addirittura caricare un file. Dopodiché posso decidere di utilizzare una cartolina 3D, ovvero un file tridimensionale, ma senza profondità, quindi senza estrusione, o ancora applicare un'estrusione, come abbiamo visto nel caso del testo, o ancora utilizzare una mesh, quindi una forma predefinita, come un cubo, un cono, una sfera, eccetera. In questo caso rimarrò sul semplice, quindi utilizzerò una cartolina 3D, mi serve creare un piano utilizzando questo sfondo. Perfetto, sembra che non sia successo nulla, ma in realtà, ancora una volta, cliccando sull'oggetto e ruotando, ecco che adesso abbiamo un oggetto tridimensionale. Annulliamo la rotazione, perché non mi interessa in questo momento, e andiamo ad attivare il nostro oggetto 3D. Ora, così come nelle precedenti versioni, ogni livello 3D in realtà è una scena a sé, quindi non ha nulla a che vedere con gli altri livelli 3D. Quindi se io cambio la vista su un livello 3D, questa cosa non incide su eventuali altri livelli. Come si risolve questo problema? Unendo i livelli 3D in un'unica scena, quindi in un unico oggetto tridimensionale. Per fare questo bisogna unire i livelli. Anche in questo caso, vi segnalano una novità, nelle precedenti versioni era possibile selezionare solo due livelli 3D alla volta. Nella versione di Photoshop CS6 è possibile selezionare quanti livelli 3D si vuole in un'unica scena, quindi in un unico livello 3D. Li selezioniamo quindi, andiamo sul menu 3D e scegliamo Merge 3D Layers, quindi unisci i livelli 3D. Quando facciamo questa operazione, spesso il risultato può non essere proprio quello che avevamo in mente. Perché? Perché chiaramente deve far combaciare, Photoshop deve far combaciare le viste dei due oggetti 3D. In questo caso, tutto sembra funzionare. Ancora una volta, diventa molto semplice selezionare gli oggetti 3D contenuti all'interno di un unico livello, come cliccandoci sopra.